Ah, è ora di goderci la spiaggia. Andiamo! Prendi! Sei proprio bravo a correre in acqua. E anche a colpire la palla. Selfie da spiaggia! Come scotta il sole. Mi fa male tutto. Non toccarmi! Questa scottatura mi fa troppo male. Che cosa facciamo? Aspetta, so io che fare. Abbiamo questa pianta di aloe, giusto? Possiamo usarla per la scottatura. Userò un coltello per togliere la buccia così. Oh sì, guarda tutto quel gel. Adesso lo raccolgo col cucchiaio così. Sì! E lo mettiamo nel frullatore. Metto il coperchio e adesso frullo. Ecco fatto, non ci vuole molto. Così è più liquido e posso versarlo nei contenitori per il ghiaccio. Ecco! E adesso il prossimo passaggio è congelare! E i cubetti all'aloe sono pronti. Stai guardando? Osserva! Raffredda e allevi il dolore. È perfetto per le scottature. Guarda, la pelle sta già meglio! Ma dai, passa su! Tieni! Abbiamo un sacco di cubetti. Oh, mio Dio! Ehi! Dammi quei soldi! Oh, guarda questa bionda! Ha una foglia negli occhi! Che male! Quella borsa sarà mia! Molto meglio! È quello che pensi? Sì, sì, rimani distretta. Presa! Addio, signorina! Non credo proprio, ladro! Oh, sto cadendo! Forse sono stato troppo avventato. Scusami. Questo cretino ha rotto la mia borsa firmata. Non chiamare la polizia! Ma è mai possibile? E adesso come farò? Le mie cose sono tutte sporche! Che sfiga! Il mio fulano! Mi sembra abbastanza intatto questo. Credo di poter fare qualcosa. Un nodo qui. E altri sulle estremità così. Ecco! Adesso ho un marsupio. Ora leggo questi insieme. Sarà meglio fare un doppio nodo. Ed ecco i manici. Così sembra una borsa nuova di zecca. E terrà tutte le mie cose. È anche carina, vero? Nessun ladro mi rovina la giornata. Perché non si apre? Andiamo! Stupido sacchetto! Ho bisogno dei noodles! È ridicolo! Cosa diavolo è appena successo? Cosa è stato? Sei in pericolo? No, mi spiace. Stavo solo aprendo i noodles. Va bene allora. Allora torniamo ai miei noodles. Perfetto. Liam, la merenda è pronta! So che le arance sono le tue preferite. No, non prima di esserti lavato le mani. Conosci le regole. Sono pulite, ok? Ehi! Mani, bagno. Va bene, ma è ridicolo. Ma se vuole le mani pulite, allora va bene. Sto usando un sacco di sapone, mamma. Questo coso è così scivoloso. Ehi! Non riesco a tenerlo in mano. Ah, lascia perdere. Tutte pulite, vedi? Ho così tanta fame. Oh, sta fermo lì. Devo fare pipì. Oh no! Liam! Che cosa avrò combinato adesso? Sono quasi caduta per terra. Il sapone. Ma cosa ci fa per terra? Gli saranno cresciute le gambe o qualcosa di simile? Dai, rimani fermo. Aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Una penna 3D può aiutarti a tenere il sapone fermo. Vedi tutte queste linee? Fanno sì che il sapone non si muova. Disegnale direttamente sul sapone e verrà perfetto. Ma non abbiamo ancora finito. Usa la penna per tracciare questo disegno. Abbiamo scelto un unicorno. Usa diversi colori per renderlo più dinamico. Con il gel colorato fai avanti e indietro. E voilà! Un unicorno! Dai un'occhiata a questo adorabile portasapone. Mettilo dentro, su. Ci sta benissimo! Ben fatto! Ti tengo d'occhio. Dai, entra! Forse ho troppe cose nel mio armadietto. Per favore, chiuditi! Quasi! Oh, finalmente! Pensavo che non ci sarei mai riuscita! Sono così stanca! L'armadietto di Cheryl è aperto. Com'è strano! Cheryl, stai bene! Cheryl, svegliati! Non voglio andare a scuola, mamma. Dovrei aiutarla, ma come? Forse questa busta mi tornerà utile? E anche questa calamita! Sì, funzionerà! Metterò la busta nell'armadietto e la terrò in posizione con la calamita. Farò lo stesso dall'altra parte. Dovrebbe andare. Poi riempirò le buste con tutte le cose di Cheryl. Questo la aiuterà a tenere organizzato l'armadietto. Wow, ha un sacco di roba! Che differenza! Adesso l'aiuto a svegliarsi. Yuhuu! Tu, sei un angelo! Oh, sei solo l'una. Ho riordinato l'armadietto per te. Adesso posso vedere che cosa c'è. Oh, è così pulito! L'adoro! Grazie, sei la migliore! Prego, lasciami adesso. Mi stai schiacciando. Nessun problema, amica mia. Devo prendere i libri per le lezioni. Ops! E fai finta di non aver visto niente. Oh, finalmente l'ora della nanna. Sono così stanca. Già mattina. Che bella dormita. Dove sono i miei occhiali? Oh, è tutto sfocato. Forse sono qui? Oh! Beh, non sono sul pavimento. Dove sono? Ah, eccoli! Perché è così buio? No, questi sono i miei occhiali da sole. Cosa c'è qui sotto? Wow, questi hanno un cattivo odore. Ho cercato ovunque. E li ho trovati! Ehi, ho un'idea! Infilerò l'angolo del lenzuolo nel telaio del letto. Così creerò una tasca per i miei occhiali. È ora di alzarsi! I miei occhiali sono proprio qui. E posso vedere. Sì! È ora di mangiare! Aspetta un secondo. Manca sicuramente qualcosa. Ecco la mia marmellata. Adoro questa roba. Il coperchio è bloccato. Ehi, David! Ho bisogno di qualcuno di forte! Oh? Qualcuno forte? Immagino stia parlando di me. Ehi, che succede? Mi apri questo barattolo? Certo, ti posso aiutare. Prendi, devi tenermi il manubrio. Pensavo fosse più pesante. Sì, questo coperchio è bloccato. Allora. Dai, barattolo! Apriti! Ok, un attimo. Questo barattolo mi sta facendo sembrare debole. Ehi, come va? L'hai già aperto? Oh? Oh sì, e beh, sai com'è. Ancora non ci sono riuscito. Aspetta, sembra che mi stiano chiamando. Arrivo. Devo rispondere. Scusa, torno subito. Ok, mi sto guardando. Corri! Va bene, sono al sicuro. Stupido barattolo, mi stai facendo fare una brutta figura. Aspetta, del nastro adesivo. Questa è la mia salvezza. Metterò del nastro adesivo sul coperchio in questo modo. Mi assicurerò che sia fissato bene. Adesso tiro! Sì, l'ho aperto! Sono un genio! Oh, è tornato. Bene, mi sta venendo fame. Scusa per prima. Ho la tua marmellata proprio qui. Lascia che finisca di aprirla per te. Come diavolo hai fatto? Sì, non è niente. Non è ancora pulito. Molto meglio. Mi restano solo i pavimenti. Che cosa? Quanti capelli! Che schifo! Mi sto per sentire male. Questo nuovo condimento è così gustoso. Come hanno fatto i capelli a finire qui? Non ho più fame. Aspetta un attimo. Non può essere. Come possono esserci tutti questi capelli? È come se qui ci vivesse una qualche creatura pelosa. Finiranno mai? Vengono da quassù. La stanza di Eni. Devo capirci di più. Questa storia dei capelli deve finire. Eni? Cosa? Non può essere! Eh, la mia Eni. E lei la creatura pelosa. Eni? I tuoi capelli sono ovunque. Ah, non vedi? Mamma, sei impazzita? No, il problema qui sei tu. I tuoi capelli in realtà. Ma sono tutti nella spazzola. E non so come pulirla. Sai, penso di sapere come fare. Quello è un pettine. Usalo per togliere i capelli. Vengono via, non vedi tesoro? Wow, non posso credere che abbia funzionato. Non ti stai dimenticando qualcosa? Questo cambia tutto. Ecco perché mi chiamano super mamma. Sono così eccitata per il corso di arte. Ok ragazzi, oggi voglio che disegnate un gatto. Guardate il suo bel visetto. Cominciate. Oh, sarà difficile. Ecco la sua coda. Wow, non è carino. Finito. Ho dovuto sbrigarmi, quindi non è venuto benissimo. Cosa? Incredibile! Questo è il giorno peggiore di sempre. Da qui. Ah, per te questo è d'altro. Hmm, ho un'idea. Potrebbe funzionare, sì. Se avvolgo l'elastico attorno alle penne e faccio lo stesso dall'altra parte, posso ricreare il gatto sul mio quaderno. Sta funzionando. Finché seguo le linee verrà una copia perfetta. Wow, come figo, è perfetto. Sono impressionata, Cheryl. Grazie, mi viene naturale. Una B. Meravigliosa come sempre, Luna. A più. Continua così. Grazie. Oh no, sta ancora stampando. Ssh, basta. Cosa? Non c'è niente da vedere qui. Odio le lezioni di arte. Vissero per sempre felici e contenti. Dormi bene, tesoro. È così adorabile. Devo fare piano? Cos'è stato quel rumore? Mammina? C'è qualcuno? Che ha bisogno di un coltello? Sono in paradiso. Ancora? Così? Oh oh. Non è come sembra. Mamma, non di nuovo. Devi usare questo. Rimuovi la bottiglia d'acqua dall'erogatore. Poi aggiungici la Nutella. Questo dovrebbe bastare. Fissa l'erogatore alla bottiglia d'acqua. Mamma, stai sbavando. Capovolgi l'erogatore e posiziona un pezzo di pane sul fondo. Poi spingi. Ecco uno spuntino gustoso e senza disordine. Ecco che arriva l'aereo. Smettila di giocare. Scusa, mamma. Quanto è buono. Dobbiamo parlare della dipendenza dalla Nutella. Luna ha le risposte. Meno male che so le risposte. Sono così felice che anche Luna sappia che sta facendo. Grazie a un piccolo aiuto, sì. Devo essere veloce. Non può essere, sta barando. Come subdola. Cherry. Smettila. Ma sei così cattiva. Fa niente. Farò un piccolo spuntino. Mi serve proprio. Cioccolato. È una barretta di cioccolato. Sembra così buona. Devo averla. Sono così affamata ed è così gustosa. Cheryl, potrei avere un pezzettino? Bene, bene, bene. No. Adesso basta. Non ho paura di te. Ora sono cavoli. C'è solo una cosa da fare. Qualcuno ha aperto la finestra? Una barretta di cioccolato? Ancora? Come vuoi. Prendi. Dammi le risposte. Altre? Bene. Contenta? È un piacere fare affari con te. Grazie, amica. Grazie. Io odio studiare. Mi tornerà molto utile. Che sta succedendo qui? Sono così deluso. Datemi tutto. Andate in punizione a entrambe. Non ci posso credere. Dilettanti. Ecco come si intrufola il cibo in classe. Delizioso. Io amo questo lavoro. Mmm, sì. Oh, che bel posto. Ci devono essere degli oggetti di valore qui dentro. Oh, cos'è questo? Ah ah, il crimine perfetto. Oh no, scappa! Che sta succedendo qua giù? Tranquillo, ti copro io, papà. Fammi spegnere la sveglia. Siamo stati derubati. I gioielli! Oh, sono ancora qui. Anche l'oro. Che fortuna, eh? Non ci sono più, papà. I vestiti delle mie bambole li ha presi. Oh, tesoro, mi dispiace. Usa questo fazzoletto. Mmm, so io come risolvere il problema. Per rimediare, taglia il fondo da un palloncino. Piega il palloncino e taglia un pezzetto di lato e in alto. Apri il palloncino. Ed ecco un nuovo outfit per la bambola. Dovrai aiutarla a vestirsi però. Quindi taglia il fondo di un altro palloncino. Adesso ha dei leggings fantastici. Aggiungiamo un tocco di colore con un grande palloncino. Taglia la parte superiore e inferiore. E fallo scorrere sulle gambe della bambola. Ed ecco un'ottima gonna. Sembra una vera modella. Ecco un nuovo guardaroba per le tue bambole. Wow, papà, sono bellissime. Sono così alla moda. Ciao, adoro il tuo vestito. Sei così carina con i tuoi vestiti nuovi. Oh, cavolo, sono così stacco. Ma ho così tanto lavoro da fare. Meno male che ho ancora il caffè. Forse farò solo un pisolino veloce. Sì, devo truccarmi prima della scuola. Ho tutte le mie cose e metterò il mio specchio proprio qui. Ehi, papà, svegliati. Oh, ero così stanco. Che cosa? Hai delle cose in faccia, guarda. Vedi? Oh, ma che diamine. Le devo togliere. Oh no, guarda quante occhiaie. Sono orribile. Beh, forse questo può aiutarti? No. Forse questo? Aspetta, so io cosa può aiutarti. Vieni qui, pianta di aloe. Ho bisogno che tu aiuti, papà. Pensi davvero che funzionerà, tesoro? Certo! Intanto apro la foglia. Tutto il gel e le cose buone all'interno devono andare nel frullatore così. Poi mi servirà anche dell'acqua. Dovrebbe bastare. E toglierò la foglia. E ora di frullare il gel e l'acqua. Ecco, va bene. Avrò bisogno di questo contenitore. Adesso posso versarlo dentro questo piccolo foro. Così va bene. Non voglio riempirlo troppo. Lo metto nel congelatore adesso e lo lascerò dentro solo qualche minuto. Chissà che altro dovrei fare oggi. Puh, dovrebbe essere abbastanza tempo. Pronto per l'uso? Eccomi, papà! Guarda che ti ho fatto. Un ghiacciolo al gel di aloe. Prendilo. Devi solo strofinartelo sugli occhi. Continua, non fermarti. Funziona, ne sono sicura. Vedi? Hai fatto sparire l'occhiaia. È davvero spettacolare. Devo usarlo sull'altro occhio. Mi piace la sensazione di freschezza sulla pelle. Non posso credere che tu l'abbia fatto. Mi hai davvero salvato, figlia mia. Devo andare. Ehi, scusa, sono in ritardo. Come va? Giornataccia, non dormo da giorni. Ho un aspetto orribile. Devi provare questo allora. Mia figlia l'ha fatto per me. Lascia che te lo mostri. Devi solo strofinartelo sugli occhi. È spettacolare, grazie. Adesso posso concentrarmi. E di che? Ah, che bella dormita. Ehi, è il mio compleanno. Buon compleanno a me. Oh, che dovrei fare? Lo so. È qui da qualche parte. Ah, le mie decorazioni. Voglio creare una bella atmosfera. Qualcosa non va. Ehi, come va, amico? Ho una sorpresa per te. Chiudi gli occhi. Ah? Chiudili. Ta-da! È un palloncino per me. È meraviglioso. Beh, è un giorno speciale. Lo appenderò al muro. Anche se ho un'idea. Mi serve la mia penna 3D. Guarda un po'. Gonfia un palloncino e comincia a disegnarci con la penna 3D. Crea degli anelli attorno al palloncino. Continua a girare intorno al palloncino finché non è tutto coperto. Una volta finito, prendi un paio di forbici e taglia le estremità. Una volta che il palloncino si è sgonfiato, rimuovilo delicatamente. Posiziona delle lucine all'interno della struttura. E abbiamo delle belle luci da festa. Le appenderò proprio qui. Ah, come stanno bene! Le adoro! Molto meglio del bidone della spassatura. Festeggiamo! Fammi togliere questo casino. Ho i bicchieri. E adesso creo l'atmosfera. E ci serve una torta. Devo esprimere un desiderio. Che cosa è successo? È stato il vento. Fa niente, sarà di passaggio. Ho parlato troppo presto. Buon compleanno! Quanto adoro il campeggio. Soprattutto quando c'è di mezzo un bel picnic. Devo assolutamente bere. Dormo così bene in mezzo alla natura. Oh, ma sono io! Puzzo! Ehi, questi mi aiuteranno di certo! Appenderò questa busta piena d'acqua su un ramo. Così posso lavarmi i capelli con un po' di sapone. Ma che sta facendo laggiù? Sei pulito e profumato. Come hai fatto? Tieni una coca. Ehi, andiamo in acqua. Aspetta, fermo un attimo. Non possiamo lasciare le cose incustodite. Qualcuno potrebbe rubarci i soldi. Ah, giusto! Sarà meglio controllare, sì. Ecco. Sembra che i soldi ci siano ancora. Ma come facciamo? Scusa. Questa spazzola sarà d'aiuto! Possiamo togliere la parte con le setole. Così. E piegare e arrotolare le banconote in questo modo. Staranno benissimo dentro la spazzola. E adesso possiamo rimettere le setole. Vedi? E posso anche spazzolarmi i capelli? Ehi, anche a me! Guarda, che cane peloso! Ciao, piccolino! Adesso ti spazzolo tutto! Oh, sei così bravo! Ti piace, vero? Guarda quanti peli! Funziona benissimo questa spazzola! Sì, ma non usarla sui tuoi capelli! Comunque è un ottimo modo per nascondere i soldi! Sono andati! Prendiamogli qualcosa! Cavolo, non c'è nulla! E questa? Che schifo! Quanti peli! Me ne vado! Ciao!